FUTPRINTS FUTPRINTS è un progetto bandoneon che ho spiegato nel mondo per 10 anni. Il mio primo concerto solo era nel 2009 nel Festival Filippino Intermational Jazz. Poi, molti altri vengono. Ho spiegato per quasi tre anni ogni primo settembre del mese in Londra e ho incontrato il mio manager che mi ha aiutato a creare le feste in UK. In 2015 ho spiegato nel Festival Madrigal Jazz e ho iniziato a creare in Spagna. Ho spiegato principalmente la mia musica, un mix di tango e jazz. Ho spiegato molti musicisti. FUTPRINTS 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 Musica I made a TV program with my musical journey around the world. I always like new challenges.